Un 25enne riminese senza fissa dimora è già noto alle forze dell'ordine finito in manitte per i reati di resistenza, minacce, lesioni o oltraggio a pubblico ufficiale. Erano circa le 17 di ieri pomeriggio, quando due pattuglie delle volanti della questura sono intervenute in uno stabile disabitato in via Baldassini a Pesaro, il cui custode aveva segnalato l'intrusione di alcuni estranei. E proprio lì Poliziotti hanno sorpreso il giovane insieme alla sua compagna, una 19enne del posto, mentre stava montando un nuovo chiavistello. La coppia, infatti, dopo aver forzato il portone d'ingresso e aver preso possesso dell'edificio in modo illecito, ha ben pensato di trasferirsi direttamente con i propri bagagli. Ma invitati ad allontanarsi, i due hanno iniziato a dare in escandescenza insultando e minacciando gli agenti e il 25enne si è addirittura scagliato contro di loro, colpendoli con calci e pugni e provocandogli lividi contusioni. Bloccato, il ragazzo è stato tratto in arresto, arresto che è stato convalidato questa mattina dall'autorità giudiziaria che lo ha condannato per l'aggressione a 7 mesi e 15 giorni di reclusione, con il rito del patteggiamento rimettendolo in libertà. E' stato quindi allontanato dal comune di Pesero con foglio di via obbligatorio, emesso nei suoi confronti dal questore Antonio Lauriola. La 19enne invece è stata denunciata in stato di libertà per i reati di resistenza, oltraggio e minaccia pubblico ufficiale. Entrambi sono stati deferiti anche per i reati di invasione di edifici e danneggiamento.